ascoltami attentamente e ti insegnerò a diventare paranoico no furbo ciao a tutti zioac migliorati.org dal 98 online concorsi di formazione quindi abbiamo chiuso il 22esimo anno grazie a tutti voi anche a quelli che non sono clienti ma che mi seguono in qualche modo e quindi spero di dare loro qualche informazione interessante anche nell'introduzione al corso di questo mese l'audio corso di questo mese con manuale sempre mi raccomando lo dico ai clienti leggete il manuale perché nel manuale mettiamo sempre lo rivedo personalmente e aggiungo delle cose extra in particolare in quello del mese scorso ho aggiunto delle correzioni importanti ecco finita la comunicazione in servizio eccoci qua il corso di questo mese come dicevo un corso in paranoia no paranoia no antifragilità e come diventare furbi furbi una parola essere furbo street smart in inglese street smart adesso bisogna fare le pronunce bene perché su tiktok questi influencers la fanno tutte giuste le loro pronunce le loro cose poi con delle puttanate pazzesche però non tutti per fortuna non tutti però così come attenzione che anche qualcuno che seguo dice puttanate pazzesche quindi come che corso è è un corso di sicurezza ovvero protezione personale dove per personale lo stendo anche e soprattutto alla propria famiglia ai propri cari per cui un corso in cui riassumo coprendo le aree del fisico del corpo quelle finanziarie quelle delle relazioni e infine l'area di cyber sicurezza e metto tutto insieme alla fine una parte transpersonale che qualcuno chiama spirituale ma non mi piace molto la parola ma è diventato una fuffata unica ecco un corso in cui riassumo i concetti chiave a volte ripetendoli cose che ho già detto ma ripetita iuva diciamo in latini quindi devo farlo detto in italiano devo farlo entrare nella craniaccio duro di alcuni dei miei clienti che ancora alcune cose non le hanno capite bene quindi è un corso che vi insegna a proteggervi a essere al sicuro e appunto a diventare antifragili cosa vuol dire antifragili in sostanza non solo se cadi ti rialzi ma se è così protetto proprio perché hai ridondanza quindi in sostanza potremmo chiamare l'antifragilità una sorta di avere dei backup avere della ridondanza essere furbi in modo che essere pronti all'imprevisto e all'imprevedibile quindi in sostanza è un corso che ha già fatto la premeditatio malorum quella che gli stoici chiamavano i latini chiamavano come cercare potenziali problemi e risolverli in modo che se accade qualcosa di imprevisto ma non totalmente imprevedibile come appunto una pandemia ecco che uno è già a posto nelle aree importanti quindi le tre aree primarie di stress che sono il corpo fisico la salute le finanze e le relazioni a livello mentale emotivo e anche appunto se non ci starà creerò qualcosa di separato a parte alcune idee di cyber sicurezza perché dallo spam che mi arriva da voi noto che vi prendete una marea di malware quindi volevo dire che avete qualche comportamento nella gestione online vi manca proprio ad alcuni non a tutti ma anche gente che dovrebbe avere quelle basi manca proprio un concetto di cyber sicurezza di base per cui perché perché è un corso di sicurezza perché è essenziale per una vita lunga e sana cioè si può morire rapidamente in modo stupido poi lo vedremo nel corso perché si fanno delle brutte scelte spesso per condizionamento sociale o per essere gentili o per essere e così secondo perché ho visto appunto online su sui pochi canali social che frequento che ci sono dei pessimi pessimi consigli e gli amici ne danno di peggiori e purtroppo dove si mette la fiducia una volta chiamavano fede era un po religiosa adesso la chiamano fiducia però dove si mette la fiducia è importante perché si possono creare delle grosse illusioni delle grosse delusioni poi diventano e infine c'è tutto il concetto ne parleremo nella parte finanziaria del corso delle truffe per le truffe una cosa sintetica imparata da gente che va lavora spesso per strada come pen gilet che sapete era quello di una sorta di prestidigiatore che faceva molti spettacoli per strada è molto semplice il concetto nella truffa sono loro che vengono da te è difficile che tu vada da loro se tu vai da loro di solito ne truffa purtroppo oggi esiste al marketing con delle trucche delle esche eccetera che è importante comunque per mantenere un business per controllo che deve essere fa andare te da loro e purtroppo c'è gente sono anni che lotto contro alcune cose cerco di spiegare quanto meno come protegge da psicosette come proteggersi da oggi da influencer fuffare che online ci sono ma sono anche abbastanza evidenti quindi uno deve essere se uno fa le sue pratiche di base soprattutto quella di continuare a studiare bene roba di qualità questa è la parte più importante perché se uno studia ma si legge i libri di david aichi e beh allora vaffanculo tu non stai studiando ti stai intrattenendo in un modo malsano perché poi metti la tua fiducia la tua fede in non mi piace far noi però insomma penso sia abbastanza noto non penso ecco se sei un fan lascia questo canale e segui segui questa gente buona fortuna ecco togliti da qui togliti dalle palle creeresti solo problemi per cui è essenziale avere una sorta di sistema a livello fisico finanziario relazionale mentale emotivo con dei concetti dietro in qualche modo che vanno oltre la tua singola personalità quindi transpersonali che gestisca tutto questo altrimenti oggi molte cose sono fatte per echerare per prendere il controllo della tua amigdala che è il centro dello stress quindi il tuo sistema limbico attivare il sistema simpatico a quel punto si attiva il cortisolo nel sangue e abbiamo se è una cosa cronica e abbiamo dei problemi ecco perché tutti dovrebbero partire dal farsi almeno un rilassamento una meditazione col tempo poi le vostre pratiche voleranno al giorno una volta in altri termini in termini più psicologici si parlava di subconscio e in questo caso questo corso è proprio nel creare una protezione cosciente a tutti i livelli della persona in tutte le aree importanti per cui prepararsi è importante ed è la base insomma le fondamenta di una vita sana ecco per evitare la paranoia poi vedremo nel corso subito all'inizio che cosa dobbiamo fare per evitare appunto di di prepararci a cose che non ha senso piccola nota è molto semplice decidi il tuo livello di tolleranza quindi in base poi alla probabilità di che questo possa accadere ignora tutti i rischi sotto la tua soglia di tolleranza ecco in breve questo poi sarò più chiaro e più pratico dentro al corso e questo direi che è tutto siamo brevi sto mese e sono contento di questo come vedrete dalla mappa che metteremo nell'introduzione quindi nell'articolo sul sito metteremo comunque la mappa mentale di tutto il corso è la più ricca di sempre quindi passo dall'altra parte e chi vuole si iscrive ad hna e si ascolta il corso dove darò darò tante idee ripeto a me formalizzerò un po quello quello che che ho detto e c'era un'altra cosa che volevo dire ecco sì il prezzo del che ne ha è definitivamente questo punto salito da me non esistono i break i black friday perché li trovo poco rispettosi verso i clienti che hanno pagato qualcosa prezzo pieno fare degli sconti faccio delle offerte periodiche solo ai miei clienti non pubbliche non faccio nessuna offerta pubblica e non clienti perché c'è già un corso introduttivo dei relax costa poco e così ecco è salito il prezzo ringraziate chi ha creato dei cloni delle cose simili a cane ha su argomenti diversi non deliberatamente ci mancherebbe e ha determinato un nuovo prezzo di mercato che io devo seguire perché non ritengo che quello che do nel mio corso mensile e penso sia quattro volte superiore a quello che danno in questi corsettini e quindi mi sembra giusto adattarmi a questo quindi ringraziate altra gente che ha creato accademie simili ricordo che kna è la più antica esistente in italia mensile al momento è quella se qualcuno ha delle prove delle evidenze che quello che sto fermando non è vero mi scriva personalmente se ho sbagliato dirò è la seconda è la cosa al momento siamo la numero uno come iscritti probabilmente con i numeri chiaramente degli influencer che hanno tutti questi seguaci online avranno numeri superiori ben diversi non mi interessa nel senso che non riuscirei a seguire adeguatamente i miei clienti se avessi quel tipo di numeri e sono contento così di avere meno follower sui social di quanti clienti abbia va benissimo così e questo è secondo me un buon consiglio per tutti quelli di voi che hanno uno o più business online ecco questo è tutto siate buoni continuate comunque se non siete miei clienti a fare le quattro pratiche base di una forma di rilassamento o meditazione per mantenere lo stress sempre a livello basso studiare prodotti di qualità allenarsi in modo moderno e intelligente ne ho fatto tanti corsi su questi argomenti e infine la quarta pratica creare non voglio chiamarla business perché a me piace creare queste cose è il mio modo di studiare e guarda caso ad altra gente piace come studio e come faccio le cose e li ringrazio e procedo dall'altra parte per aiutare loro intanto un abbraccio a tutti voi buon mese e cercate di renderlo migliore facendo quello che vi ho detto ciao alla prossima un abbraccio sono stato il primo a usare questo termine online e anche zio hack esiste il mio nome molto prima che tutti gli altri anche i rapper si facessero chiamare zio per cui è così poi se quello che affermo non è vero sentitevi liberi di scrivermelo documentarmelo e se dico puttanate le correggo ecco ciao a tutti